Ciao ciao a tutti, ho qui da mostrarvi il bottino cartopazzo che mi è arrivato da Aliexpress. È un arrivo abbastanza veloce perché in meno di un mese mi sono arrivati tutti e due i pacchetti con le cosine che avevo ordinato da due venditori diversi. Io preferisco ordinare più cose dallo stesso venditore, così almeno non devo aspettare una miriade di pacchettini, ma almeno è tutto raggruppato in un unico invio. Inizio subito, uno un pochettino un po' più magrino e l'altro un po' più cicciottello. Inizio con questo, questi sono solo washi tape. Allora sono questi, due, due, due di un tipo e due di un altro e sono entrambi unicorni. Sapete che la passione degli unicorni è abbastanza diffusa in tutte le cartopazze e io non sono da meno. Non so, danno una sensazione così di fantasia, di colore, di spaccarmi le unghie mentre tento di aprire la scatoletta. Oh signor! Devo proprio romperla? Ma sì, rompiamola. Perché sono impaziente, non ho la pazienza di aprire. L'hanno confezionato proprio col cemento. Allora facciamo così, facciamo prima, ecco fatto, tanto poi un'altra scatola rimane intatta. E questo, ne avevo già uno simile, ma questo devo dire è più carino, questo. Vediamo un po' se riesco a aprirlo così lo vedete. Ecco qua. Che carini, gli unicorni, gli arcobaleni, le nuvolette, la classica iconografia degli unicorni. Sono belli, sono dieci metri per ogni nastro, quindi due così e due invece sempre con gli unicorni, ma una fantasia più minuta. Ecco qua. E sono questi. Vediamo se trovo il capo qua. Anche questi sono abbastanza, cioè, buon prodotto. Ecco qui, guardate che carini anche questi, con le stelle. Si vede? Sono bellissimi. Belli, belli, belli. E questi appunto sono due, due. E poi, invece, questa confezione di due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, tredici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, otto, nove, dieci, otto, sì, sono tredici. Che strano. Wash in questo modo. Sono di diverse misure. E ci sono, ah no, sono, no, di più. Allora. Questi che sono sottili, sottili, e io li amo moltissimo, questi sottili, bassi, ecco. Perché vanno bene per dividere i giorni sull'agenda. Ma anche per il mio taccuino di viaggio, che essendo piccolino, ho bisogno di una decorazione un po' più minuta. Allora, qui abbiamo i miei adorati gufetti. Vediamo se trovo il capo. Eccolo qua. I miei amati gufetti su questo sfondo rosso. E i gufetti di vario genere, di vario tipo. Anche qui una buona quantità di prodotto. Sono dieci metri comunque la quantità standard. Questo non lo sto a aprire perché è abbastanza semplice da vedere. Sono ombrelli. Qui per decorare l'agenda nelle giornate di pioggia vanno benissimo. Questo invece ha fenicotteri e piante grasse. Questo forse è meglio vederlo aperto. Vediamo un po' dove è il capo. Eccolo qua. Ecco. Bellini. Mi piacciono tantissimo i fenicotteri. Poi queste fantasie così delicate le amo in modo particolare. Poi abbiamo questi sottili con varie fantasie che non vi sto proprio a descrivere nella minuzia. Qui ci sono degli orsetti. Qui dei gelati. Dolcetti vari. Questi sono cagnolini. Cagnolini piccolissimi, neri. Non so se... Ecco così. Con lo sfondo di un paesaggio. Qui invece sono gattini neri. Molto bellino anche questo. Poi questi due blu con... Cosa sono questi? Orsetti. Si vedono poco però. Si vedono molto poco. Orsetti. Da questa parte invece faccine varie di pupazzetti. Non sto ad aprirli. Questo invece con vari animaletti. Questo sono... Sono... Ma sembrerebbero palloncini. No, sono uccellini cicciottelli. Vediamo se... Tornandolo magari se... Ecco qua. Mi sembrano proprio uccellini cicciottelli. Sì. Sì. Carucci. Carini carini anche questi. E questi sono ancora gattini stilizzati neri. E questo è il primo malloppo. Questo invece è più sostanzioso. Vediamo un po'. Togliamo. Allora. Così. C'è parecchia roba qua dentro. Ecco. Mi è caduto anche... Un attimo. Rieccomi. Sorry. Ho fatto un po' di casino. Allora. Qui c'è la parte più... Più interessante. Degli arrivi. Questi sono... Smiley. Emoticon. Che mi hanno messo in omaggio. Questi qua. Molto grandi. Poi ho preso... Questi... Questi sticker. Che sono tutti relativi al... Cibo. Sono fatti molto bene. Sono carinissimi. Abbastanza particolari. Mi piacciono molto. Poi. Questi. Guardate che carini. Sono fiori. Sono piccoli sticker. Di fiori. Molto delicati. Confezionati in questo... In questa specie di sacchettino. Color lilla. Ne ho presi due. E sono anche leggermente brillantinati. Davvero davvero molto. Molto carini. Mi sta venendo in mente così adesso un flash. Io potrei anche fare un piccolo giveaway con qualcuna di queste cosine visto che molte le ho ordinate doppie. Poi ho preso questi memo tape a forma di piante grasse. Di vasi di piante grasse. Due fatti così e due fatti così. Molto bellini. Molto bellini anche questi. È un peccato scriverci sopra. Io li prendo e poi non li uso perché mi dispiace. Questi che sono mini blocchettini. Questi che sono mini blocchettini vedete di varie forme. C'è l'orsetto, c'è la nuvoletta, c'è un po' di tutto insomma. Questi sono proprio mini mini. Io li userò come sticker ovviamente non come memo perché c'è ben poco da scrivere qua sopra. Ma mi piacevano parecchio. E poi questi invece sempre memo tape. Memo stick. A forma di fiore. Questo azzurro, questo rosa, questo bianco. Io questi colori così delicati pastello li adoro. Poi queste penne hanno scritto miau. Sono, hanno la zampetta del gatto disegnata. Penso siano nere entrambe, sì. Sì, penne gel nere normalissime però un po' diverse dalle solite. E poi qui un'altra serie di washi. Guardate questo, non sto ad aprirlo. È alto questo, sono due centimetri. E raffigura un paesaggio mediterraneo. Vedete, mediterraneo sì, mare mediterraneo. Sembra la Grecia così da questi colori. Poi quest'altro invece di paesaggio di case. Sono case, casette. E qui dice che rappresentano la Germania. Questo è quel castello che sembra veramente il castello della Disney. Anzi, il castello simbolo della Disney ha preso ispirazione proprio da questo castello che si trova in Germania. Io non ricordo la località esatta purtroppo. Ed è qua. Ecco, non sto ad aprirli questi. Poi questo invece con le piante grasse. Anche questo con le piante grasse. Il disegno è quello che vedete qua sulla scatoletta. Poi questi sono, non lo apro perché è sigillato, sono gattini in vari atteggiamenti. Queste invece sono ragazzine, bimbette, con vari saluti. goodnight, eye, questo che manda i bacini. Ecco, più o meno lo stile è questo. Idem, queste, sempre bambine, ragazzine. Colori più tenui. Queste invece, gatti. Oh my god. Gattini. Anche questi hanno varie scritte. C'è la B. Oh my god. Good night. Thank you. Molto carino anche questo. E invece questi sono sticker sciolti che raffigurano dolcetti. Anche qua ne ho presi due confezioni. Vediamo se li apro, se riesco ad aprirli senza scarnificarmi le unghie. E questi sono tutti dolcetti. Guardate che carini. Che belli. La ciambella. Io queste le chiamo le ciambelle di Homer. Homer Simpson. Ecco qua. Molto molto carini. Perfetto di torta. E questi sono sciolti. Ultimamente mi piacciono parecchio questi sciolti. Nelle scatoline. Ne ho un tot. Anche di questi. E questo è tutto il mio malloppo. Aliexpress. Di questo invio. Adesso mi manca solo un pacchettino. Che mi deve arrivare da Aliexpress. Con una certa cosa. Che non vi svelo adesso. Ma vi dirò non appena mi arriva. Io vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso. Vi salutiamo io e il mio malloppo Cartopazzo. E al prossimo video. Ciao ciao.